Mister esordio 3 a 0 in campionato, adesso la seconda giornata in trasferta a Verona contro il Chievo, che partita ti aspetti? Aspetto una partita complicata, difficile, parliamo di un mister che ha fatto una carriera importante, delle giocatrici, ho visto la Rosa, hanno fatto una carriera importante anche, è anche un club, una società che ha fatto una stagione importante anche l'anno scorso, quindi è una cosa in più e che è una bestia blessata, lo diciamo, quindi è una squadra che ha fatto una sconfitta, quindi vengono con un'altra mentalità, noi dobbiamo essere pronti, dobbiamo essere preparati per una partita intensa, è quello che abbiamo fatto tutta questa settimana. Io ho detto del primo giorno che siamo qui con le ragazze, a tutto il staff e abbiamo tutti la stessa mentalità che ogni partita è il nostro lavoro, quindi se ci sono 30 partite da giocare, 29, 28, 27, sempre ogni partita è lo stesso obiettivo, quindi lavoro serio durante la settimana, preparazione, partita intensa sempre. Se abbiamo cinque vittorie o se abbiamo due vittorie o cinque sconfitte, due sconfitte, quindi i risultati non ci fanno la differenza nel lavoro, il lavoro è il lavoro e domenica aspettiamo questa partita per continuare il nostro lavoro buono.